ciao ragazzi ho visto che il video vi è piaciuto insomma e quindi già sono passato al secondo il secondo brano che suonerò sarà un brano di George Gershwin sarà our love is here to stay tonalità da signora in do maggiore velocità 60 struttura sono tre chorus quindi tema improvvisazione tema finale Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.